Offerta da record per Kylian Mbappé, lunedì la squadra di calcio saudita Ali Lal ha offerto all'attaccante francese 300 milioni di euro che lo renderebbero il calciatore più costoso della storia. Il campione è in una situazione di stallo con il Paris Saint-Germain dopo aver rifiutato un'estensione di 12 mesi del suo contratto. Secondo il PSG, Mbappé ha anche un accordo già in atto con il Real Madrid per unirsi alla squadra spagnola come free agent alla fine della prossima stagione.